Dieci modi per sedurre e conquistare gli uomini. Allora, quali sono questi dieci modi? Le donne hanno sempre giocato un ruolo passivo nella seduzione e nella conquista, ma si può passare da preda cacciatrice. Puoi farlo se vuoi. Nel gioco della seduzione e della conquista puoi interpretare ruoli diversi. Le donne hanno delle armi che possono utilizzarle, anche dando lo stimolo ad un uomo a cercarle, a desiderarle, a volerle sedurre. Allora, la prima cosa è sapete cosa significa essere approcciati. Devi avere un'idea delle dinamiche del funzionamento. Questo è molto importante, quindi capire la psicologia maschile. Ho fatto tanti video dove spero questo. Poi sviluppare uno spirito di osservazione. Devi farti un'idea del tipo di persona che hai davanti. Ad esempio, soprattutto, capire se vive una conflittualità materna o una conflittualità paterna. Questo è fondamentale per capire poi il tipo di strategia da mettere in atto. Ho fatto anche tanti video su questo. Devi, come terzo punto, conoscere le fantasie maschili. Saper utilizzarle contro di loro. Capire se ha una fantasia, diciamo, con qualche feticismo o qualcosa non per fargliela appagare, ma per stimolargliela. Quarto punto, devi sapere usare il gioco di sguardi. Lo sguardo, anche durante il rapporto, è fondamentale. Puoi sviluppare uno sguardo seduttivo e citarlo, anche semplicemente attraverso uno sguardo. Mantenere il linguaggio del corpo femminile. Il linguaggio del corpo è fondamentale, quindi imparare a camminare, imparare a stare seduta, imparare a sviluppare femminilità attraverso il linguaggio del corpo, direi che è il punto fondamentale. Non sottovalutarti mai, non pensare di farti dare per scontata, perché questo è veramente il bacio della morte e della seduzione. Il settimo punto, cerca di sviluppare il contatto fisico all'inizio, in modo casuale. Sferare il braccio, sferare la mano nel momento giusto, gli darà quell'adrenalina che è veramente molto importante. E poi, altra cosa fondamentale, è il sorriso. Devi imparare a sorridere. Allegri e spensieratezza sono sempre un ottimo biglietto da visita. Il sorriso può essere molto allusivo e anche generare turbamenti. Non appunto, cerca di essere imprevedibile. Non devi essere, come dire, un po' misterioso, un po' imprevedibile, fondamentale. E il decimo punto, ricordati che devi farti percepire, gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendolo. Anzi, talvolta quando lo fanno si disinnamorano un po'. Iscriviti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, seguimi su Instagram Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti gli altri miei canali YouTube. Ciao!